I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure catelarie messa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della locale procura nei confronti degli otto indagati, due sottoposti agli arresti domiciliari, tre alla misura coercitiva non custodiale del divieto di dimora, tre alla misura interdittiva del divieto di contattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno, a carico dei quali, a bario titolo, si è ravvisata la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a reati di corruzione, turbata libertà degli incanti, falsi ratto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato. Tra i destinatari dell'ordinanza figurano il sindaco del comune di Palma Campagna, due dipendenti comunali e cinque imprenditori. Il provvedimento catelare costituisce l'epilogo di articolate attività di indagine condorte tra il 2021 e il 2022 dal nucleo investigativo con l'ausilio della stazione di Carbonara di Nola, che hanno consentito di svelare la gestione irregolare del citato ente locale, connotata dal sistematico asservimento dei pubblici poteri ad interessi particolaristici e di natura clientelare. In particolare le investigazioni hanno consentito di raccogliere plurimi elementi indiziari circa l'illecito svolgimento di svariate procedure di gara, quali quelli aventi ad oggetto la manutenzione stradale, la cura delle aree verdi, i lavori di ristrutturazione presso talunghi edifici scolastici e le operazioni di carottaggio su fondi interessati dallo sversamento di rifiuti. Le citate procedure sarebbero state turbate in modo da predeterminarne l'esito in favore degli imprenditori aggiudicatari, spesso identificate in figure gradite alla componente politica dell'ente locale, che risulterebbe aver esercitato la propria indebile incerenza nella sfera discrezionale dei dirigenti preposti agli uffici competenti. Gli elementi acquisiti hanno indotto altresì il giudice per le indagini preliminari a ravvisare la configurabilità di molti e vice episodi di corruzione, in cui l'asservimento della funzione pubblica, correlata alla giudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, avrebbe avuto luogo in cambio di denaro o altre utilità e fra l'altro verso il tornaconto di carattere elettorale connesso all'assunzione da parte degli imprenditori beneficiali dell'appalto di soggetti segnalati dai pubblici ufficiali. Il provvedimento interviene evidentemente in una fase preliminare ed è sottoposto a mezzi di impugnazione, mediante i quali è garantito il diritto al contraddittorio delle persone sottoposte alle indagini. I destinatari delle misure cautelari non devono essere considerati colpevoli dei fatti in contestazione fino alla pronuncia di una sentenza definitiva.